Ciao a tutte e tutti! Ultimamente sto battendo la fiacca e sto saltando alcuni episodi, ma è stato un inizio anno impegnativo. Ci sono viaggi e percorsi che hanno pieghe inaspettate e anche questo podcast vive, come me che lo conduco, un percorso inaspettato, così ogni tanto perdiamo i colpi. Ma finalmente eccoci al quattordicesimo episodio della terza stagione di Capsule Fim per le generazioni future. In questi giorni ho dovuto affrontare proprio uno dei problemi che stiamo osservando insieme, come sopravvivere ai fallimenti. I fallimenti possono essere di molti tipi, amore, carriera, amicizia, che poi è amore, ma sempre si ha a che fare con i sogni. E così, visto che in questa terza stagione abbiamo ricordato l'importanza di saper sognare, ci siamo ispirati nel rimettere insieme i pezzi del nostro cuore infranto, cercando anche di capire come e perché si sia rotto. Ultimamente e a Senghiozzi stiamo vivendo il difficile percorso per sopravvivere ai fallimenti, saperli riconoscere, trovare la forza di andare avanti e ricordarci che siamo ancora vivi, nonostante tutto. E quindi, sti cazzi, Eddie e Michael sono molto diversi tra loro, ma sono grandi amici. Adolescenti gay in un'Inghilterra anni Ottanta che non li vede di buon occhio. In un viaggio tra Liverpool e Brighton scopriranno molto di sé e del mondo, e di quanto entrambe le cose possono essere brutte. The Fruit Machine è un piccolo film inglese del 1988 che spiattella in faccia a tutti quanto possa essere brutto essere adolescenti gay poveri e magari non bellissimi. Aggiungiamo gli anni Ottanta della pandemia dell'HIV che nel mondo, e soprattutto in Regno Unito grazie a una politica apertamente discriminatrice da parte del governo, condannò alla marginazione e alla morte milioni di omosessuali. Le musiche sono di un quasi esordiente Hans Zimmer, ancora lontano dai fassi del premio Oscar per Ieri Leone o dal clamore del gladiatore, ma sono bellissime. Poi ci sono un sacco di altre canzoni, c'è anche Divine, roba bellissima. La regia è di Philip Seville, pluripremiate BAFTA, un grandissimo regista, un regista di altri tempi, classe 1927, un uomo che ha sempre dimostrato un occhio speciale per descrivere belle storie. Una piccola chicca è sicuramente Robert Coltrane, che tutti noi amiamo e conosciamo come Hagrid nella saga di Harry Potter, che qui interpreta la bellissima drag queen Annabelle, ed è davvero bravissimo. Parlare di piccoli film con belle storie è forse la cosa che mi piace di più di fare questo podcast, e specialmente in questa terza stagione così altalenante, mi sto prendendo la libertà di consigliarvi alcune piccole perle indipendenti, perché credo che proprio in questi piccoli progetti si nasconda il vero amore per il cinema, la voglia di raccontare una storia. E The Fruit Machine è davvero una bella storia, una storia coraggiosissima, se si pensa che è del 1988 e che si sta parlando di ragazzini, probabilmente vista da un ragazzo di oggi, ma anche dai nostessi di oggi, fa un altro effetto su alcune cose, magari non lo si trova neanche così brillante, però davvero va contestualizzato in cinema indipendente anni Ottanta, inglese, ed è davvero davvero tanta tanta roba. La base di questo film è un thriller, i due assistono a un omicidio da parte di un omofobo e scappano sperando di non fare la stessa fine. The Fruit Machine ha un triplice significato, il primo è quello di Slot Machine, fruit sapete no, la frutta che se le fai tutte uguali vinci, è come a dire che la fortuna, il vincere e il perdere nella vita spesso sono solo casualità. Il secondo significato di Fruit Machine è il nome del locale gay dove Eddie e Michael si ritrovano, dove c'è Annabella appunto. E infine The Fruit Machine era anche una sorta di macchina della verità, utilizzata in Canada negli anni 50 e 60, veniva utilizzata per sanare i fruits, i froci. Già, perché nel periodo della guerra fredda si pensava che le persone LGBTQ fossero più incline ad essere ricattati e quindi facilmente potevano diventare spie dei governi stranieri. Di conseguenza, inventare questa macchina che testava livelli di stress per capire chi lo fosse o meno in Canada venne considerata una cosa molto utile, ecco, per la salvaguardia nazionale, diciamo, dei commonwealth, God save the ruler. Comunque, ogni segmento di The Fruit Machine parla di omofobia e soprattutto di disumanità. Non c'è praticamente nessuno che voglia bene a questi due ragazzi, nemmeno chi è gentile con loro in realtà vuole qualcosa, fosse anche solo scoparsi quello che ne erano dei due. Tutti hanno un secondo fine. Io personalmente sono molto legato a questo film, che uscì nei cinema il giorno del mio nono compleanno, il 17 agosto del 1988. Una vita fa. Per anni io mi sono sentito come Eddie. Sono stata anche un po' come Michael. Lo siamo stati tutti in un certo senso. Appesi al poco che ci rendeva felici quando pensavamo di essere soli al mondo. Capita a tutti, credo. The Fruit Machine finisce sul West Pier di Brighton. Ora è un relitto e ogni volta che torno a Brighton sulla manica, che è un luogo davvero speciale per me, mi fermo sul lungomare e penso a questo film, tra le altre cose. The Fruit Machine non insegna a sopravvivere ai fallimenti, perché i fallimenti a volte non sono i nostri. Sono della società, delle dinamiche, del mondo. Ci affliggono, ma non sono fallimenti nostri. Non avvengono per colpa nostra, diciamo. Quando abbiamo fatto del nostro meglio, non abbiamo fallito. Anche quando è andata male. Il fine è solo uno. Essere liberi. E per essere liberi dobbiamo riconoscere il fallimento e lasciarla andare. Esattamente come Michael libera il delfino per Eddie, perché solo nuotando libero nessuno potrà fargli più del male. Ecco, dobbiamo imparare a nuotare liberi. Può far male, può significare lasciare morire cose e rapporti che giudichiamo importanti fino a questo momento della nostra vita, ma dobbiamo nuotare liberi per proteggerci dal male del mondo e dei fallimenti. Abbiate coraggio. Io sto cercando di averne per quanto ogni tanto vacilli. Ci sentiamo presto e mi raccomando, continuate a guardare sempre cose belle.